Simone Rossi, oggi avete presentato questo progetto per la sua guardia dell'oliva artagiasca. Da Mesa, sì. Sì, sì, è un progetto che si chiama Oliva Liguria di Ponente da Cultiva Artagiasca con la certezza scientifica data dall'esame del DNA presso il CNR dove andrà a verificare se all'interno del vasetto confezionato ci saranno effettivamente rettagiasche o altro. Quindi chiarezza, certezza per il consumatore e certezza per il produttore.